va bene va bene grazie a lei grazie a lei next stai sudatissima eeeh cazzo tenue indilato grazie il brando pad per il ride benvenuti a tutti amici di brando mi raccomando passate pure per il suo canale facimmice un shout out al buon brando pad che si dice ne brando allora dove eravamo arrivati dragon niente abbiamo finito allora ritorniamo quando porto ci chiama forse già la settimana vediamo non si accende il control salve bomber perché pt in game no non è vero pt è un bel giocatore da pc si potrà giocare no genoa juentus bu bu solid cosa brando lo sai se fa un po' di fatica a trovare contenuti su fifa di sti tempi ci inventiamo qualcosa con buon riposo brando grazie ancora la parola dove stiamo andando? ah non lo so non lo so andiamo a parco andiamo a parco andiamo a morire a parco a parco a parco Sì, è morto. Cosa c'è questo? Devi legare il joint Comunque una pozzola 50 per te Non credo di avere la faccia Non ha capito poco Ho una pozzola 50 per te C'è altra gente? No, da me non c'è Non manca da me Cosa c'è questa cosa? Cosa c'è questo? Cosa c'è questo? Cosa c'è questo? Beh, no, è un problema di più La cosa c'è questo? Cosa c'è questo? Cosa c'è questo? Cosa c'è questo? Ehm... Mi hanno detto che altri erano usciti dei giocatori Non so se c'è un velo o se c'è un buon Non so Non so Cosa c'è un buon Non c'è un buon Cosa c'è un buon Non è uscito? Prova a venire verso il te Quanto ci viene accostato? Ti lascio la roba Avete visto? Non so Eh oddio Vediamo quanto ci vede effettuto Non so Cosa c'è questo? Questo è quello che Dice che mi devo mettere la maschera Ma... Cioè Alessio ma tu Tutte le sere presenti Cioè Un'uscita, una cosa Ma pure un'u catarre, un'influenza Sempre presente Cosa vuoi portare qui? che vuoi portarci il dino o pozzo da 50 questo gli sta venendo a costa sta farsa 12 milioni di iphone allora quasi 15 salvio mai usato ora farò la domanda è meglio di me lo devi provare che non lo scusate è sopra in terra vai vai eccolo eccolo è ancora si oh ma che fa non lo so quanti lamm ha trovato questo pago lo faccio cadere pago scendi vai ma fai cadere pure me fai cadere pure me vado vado vai vai caro figlio puttana vado prendiamo un po' vado 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 c'era un medico però rianima prima di per 80 80 ce l'ho anch'io ma che aveva no 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 avevo un cazzo qui ora non aveva più nulla ma capito b 3 3 per Pak m ok 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 porto via poi ci sono diversi i barini che ti facciamo insieme dai io sono full ah sei full ok allora me li faccio solo io è lasciato il sciogliere e poi lascia stare li porti io e io non ho più cura vago oh i medici ah si ok ah 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 attenzione si sono in giocare su tutto io vedo più a posto io non lo vedo manco quindi non ho posto cos'è? scratcherlo mi sembra scratcherlo riusci a lanciarla verso di me per favore io vorrei trovare una cannata pesca così pesca pure che ci sono diverse pozze eh 1 a b a cnp o.nb a cnp o riuscire a andiamo in zappersi ora qua c'è un daclerd c'è gente davanti no? c'è lo squalo puoi andare in questa casa? ok c'è un medic che te lo porto io qua ci sono due scildini canciami lui dove sei? di qua ci stanno i barili eh vabbè siamo full ormai oh 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 qua ci sono due qui c'è una bomba oh 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 Pago ce ne abbiamo uno davanti A posto atterrato Chiuditi prima e interrogarlo dopo Sì sì Però chiuditi Ma lo posso interrogarlo perché? Forse perché è in acqua Ecco Ti avevo detto di chiuderti però Vai vai Dove sta? E non lo so Non lo so Non lo so No No Dov'è? Dov'è? Comunque dopo questa faccio 10 minuti di pausa io Va bene va bene Ah comunque io ho 6 minuti in merito Non vorrei dire però Oh la è safe Si si Oh no Ma come ci sono Ah niente Paco ce l'abbiamo dito Mannaggia Non muoio Non muoio Non muoio Che faccio lascio il medikit Pago c'ho un medikit per te Ma non ne ho bisogno Sicuro? Lascio i medikit per il lanciarazzi che dici Lascio il medikit per il lanciarazzi Lascio i medikit per lì Ah quei medikit per lì sta lasciando Si Pago mi lascia i raggi per favore a pregolpia R Se ne hai Se ne hai A posto ragazzi A zi Ho lasciati già Dove sono? Ah già me li dai A posto Siamo andati Un murinello no eh Un murinello da qua seguimi 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 Da quest'isola puoi andare tu Sì perché da quella parte là mi puzza che c'è gente davanti Oh che trovo questa collinetta Aspetta Mi lancio un razzo in testa? Vai D'averlo preso Pago No infatti non l'ho preso Pago è che l'abbiamo davanti 138 Pago 138 non mi sanno ammattare A posto è morto è morto Dove sei dove sei? Chiudi qua Chiudi però Bravo Vai rest Ho preso le armi in due secondi No no qua c'ho Ma tu non ti dovevi curare tu Pago Già mi sono curato Pago Non ti dovevi curare Ti dà voi io il mio Jack Jack Perché ma Perché si potrà fare una seconda volta? Sì si deve ricaricare Ah ok Eh se vuoi ti lascio il 3 colpi leggendali E' più 90 No no Ok Eh vieni qua ti lascio delle jump Vieni vieni Ti lascio pure colpi Eh vieni Aspetta ti lascio altri colpi secchini Ok E vedi che là sopra Sanno fai Dobbiamo andare là Sì ho visto Li vedo Li vedo Li vedo Sì Sono due team Sì Quante kill hai? Dobbiamo provare a andare Dobbiamo provare a andare Due Dobbiamo andare sopra dei roar Eh Metti la jump allora Ti dico Oppure partiamo da qua Ok la metto raggio Dove sei? La metto La metto qua sopra Ok ok Vai vai Poco uno l'hanno tramartito Veloce veloce Vieni qua Vieni qua Vieni qua Metto qua Veloce prima che si curano Sì 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 Mi penso che è finito il fight Sanno quattro sono la pago non mi che ti fermi due secondi dai ok uno è saltato dall'altro lato eccolo la pago ma è uno con uno pago pago non c'è nessuno pago uno è andato dall'altro lato eccolo la uno ma che fa? non c'è nessuno io sto cercando di arrivare niente sto cercando di arrivare l'altro ok uno è in bago uno è in bago non ti preoccuparti vuoi il juggie juggie? vieni qua no 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 pago non voglio nulla non voglio nulla tranquillo ok c'è questo qua poi c'è questo via di tutto vai vorrei capire dov'è spago sparo dei razzi la in mezzo vai sparo vai sparo no c'è razzo qua eccolo eccolo dove è? sotto sotto di noi è qua vado è morto è morto, è morto è morto è morto è morto è morto è morto gg gg io mi perdite i gg faccio pausa 10 minuti e torno io rimango pure qua in lobby su fortuna dove vorrei entrare